Erano appena passate le sei del mattino. Il cavalier Giovannetto uscì da una villa che dava sul Po, in un largo viale alberato di grandi vecchi alberi. Il marciapiede era lucido di ghiaccio. Erano i primi di marzo, ma la primavera sembrava molto lontana, anche per la nebbia densa. Camminando con grande attenzione per non scivolare sul ghiaccio, il cavalier Giovannetto, un piccolo ma notissimo industriale piemontese, raggiunse la sua Mercedes, ultimo modello parcheggiata a circa 300 metri di distanza. Aprì la portiera, la mise in moto facilmente, nonostante il gelo. Voltò quasi subito a destra, attraversò quasi tutta la città, raggiungendo una delle più eleganti zone residenziali di Torino. Fermò la macchina davanti a una palazzina che aveva intorno un vasto giardino. Bello, nonostante lo squallore gelido di quell'alba. Salì in casa nella zona notte. Nell'anticamera depose il caldo e corto palto per auto, il cappellino delle tese strettissime, poi andò in camera da letto. Sua moglie si era già svegliata, aveva acceso la luce. «Sono le sei passate», disse Acre. «Sì», disse lui. «Sei stato ancora a giocare?» La voce era Acre e desolata per di più. «Sì, e hai perso?» «Tutto». Il cavaliere Giovannetto si stava svestendo, mettendo meticolosamente sul portaabiti i suoi indumenti. «Sei un disgraziato», disse lei. «Quanto hai perso?» «Tutto». Non si può dire alla moglie che si è perduto al gioco 19 milioni. Le diceva semplicemente «tutto». Fa meno impressione. Ma vi era stata sempre molta confidenza tra loro due, anche nei peggiori momenti, e quello era il peggiore dei momenti. Non ho più una lira per le paghe degli operai e dopo domani, venerdì, devo pagarli. Sua moglie si alzò del suo pesante pigiama invernale di tessuto dorato. Disperata disse «E adesso? Che cosa fai?» «Adesso vado in bagno. Poi, per favore, dovresti farmi preparare l'abito grigio più chiaro», disse lui con la stessa disperazione mai inflessibile. «Perché esco?» «Non sveglio il personale alle sei del mattino», disse anche lei inflessibile. «E perché esci subito? Dove vai?» «Vado in banca», disse lui sulla soglia del bagno. «Devono farmi il prestito per le paghe degli operai. Il mio stabilimento è piccolo, ci sono soltanto settanta persone, ma non possono lasciarlo fallire così». Lei rise, amara e forte. «Sai due volte disgraziato. Nessuno ti darà mai un soldo». Con tutto questo lei gli preparò l'abito grigio chiaro, il paltò blu chiaro e la colazione. Il cavalier Giovannetto, alle otto e tre quarti, completamente rivestito e dopo un'abbondante colazione, era pronto ad uscire. Sua moglie era ancora lì con lui per accompagnarlo alla porta. «Scusami, cara», disse lui, «sono rimasto solo con qualche goccio di benzina. Non hai degli spiccioli per fare il pieno?» Lei lo guardò e avrebbe voluto urlare. Suo marito si era giocato anche gli spiccioli. Ma non disse nulla. Tornò in camera da letto dove teneva la borsetta. Ne tolse due biglietti da dieci e glieli portò. Lui li prese, evidentemente vergognoso. «Scusami ancora, cara», e uscì. Alle nove e un quarto, dopo aver gironzolato un poco nella nebbia torinese per far l'ora, entrava in banca. Il direttore, che rovide subito per l'imponenza alla signorilità del fisico e i suoi baffetti, ebbe una smorfia. Non gli piacevano i giocatori e gli piacevano ancor meno quando erano clienti della sua banca. E capì subito perché quello era venuto. Tutta Torino sapeva che cosa stava succedendo dal piccolo ma dinamico industriale. «Buongiorno, dottore», disse il cavaliere Giovannetto. «Desidererei parlarle». Il direttore lo fece sedere accanto alla sua poltrona, dietro il bancone, mentre il grande atrio si affollava poco a poco di clienti mattutini, tutti bisbiglianti come in una chiesa. «Vede, dottore, devo spiegare la mia situazione», continuò a parlare nitidamente, incisivamente per oltre un quarto d'ora, ma alla fine il direttore, che aveva ascoltato in silenzio, scosse il capo. Poi spiegò con gelita gentilezza le varie ragioni per cui era costretto a quel rifiuto, senza mai dire però quella vera, che cioè «Nessuna banca presta soldi a un giocatore». «Ma io ho uno stabilimento e qui in questa banca ho messo anche oltre mezzo miliardo», disse il cavaliere Giovannetto. Tuttavia, due minuti dopo, uscì umiliato per il rifiuto, anche se deciso a lottare. Quel giorno di nebbia e di zelo, tutti i capitalisti, che avevano grossi conti correnti in banca, furono scrupolosamente visitati da lui e tutti gli dissero di no. Non era una congiura. Tra questi ci fu un suo amico, e glielo disse chiaro in faccia. «Quando uno presta dei soldi a te, non sa se i soldi tu li adoperi per pagare gli operai o se te li vai a giocare alla prima visca clandestina, perché non hai il coraggio di farti vedere a Saint-Vincenzo e perché la limitazione delle poste ti dà fastidio. Il tuo gettone più piccolo è di centomila, ma preferisci giocare quello da mezzo milione. Fai una cosa più intelligente, dichiara fallimento». «Mai!» Alle nove di sera, dopo una telefonata alla moglie per dirle che rimaneva fuori a pranzo, il Cavaliar Giovannetto, compiuto un lungo giro in macchina a caso, ebbe la sensazione di aver trovato la soluzione del suo problema. Egli lottava sempre. Deciso, convinto di riuscire, diresse il muso della Mercedes lungo il Po, verso la villa da cui era uscito quel mattino e che ospitava la casa da gioco. Suonò il campanello, semplicemente. Non era un apparato cinematografico, con segnali convenzionali e raggi invisibili che sorvegliano l'ingresso, e semplicemente un uomo uscì dall'interno della villetta a una ventina di metri, e venne davanti al cancello e disse «Buonasera, Cavaliar Giovannetto! È un po' presto, non c'è ancora nessuno!» Nella nebbia, nel buio, lui rispose «Non fa niente, aspetterò. Intanto mi offrirete un aperitivo, le farò due chiacchiere con il vostro capoccia!» L'uomo aprì il cancello. A un cliente che la sera prima aveva perduto quasi venti milioni, non si poteva rifiutare di entrare un'oretta prima. «Venga, Cavaliere!» Lo fece entrare nella villetta, dove dietro il portoncino c'era un suono erboluto compare. «Dobbiamo offrire un aperitivo, il Cavaliere!» Salirono la lussuosa scala di legno elicoidale, tapezzata di una macchetta rosa, quasi luminascente per il suo unitore, ed entrarono nel piccolo appartamento privato di quello che il Cavaliere aveva chiamato capoccia. La saletta, dove l'uomo lo fece accomodare, era piccola ma sontuosa. «Si accomodi, Cavaliere!» Arrivano subito gli aperitivi. «E poi le portiamo anche il nostro padroncino!» disse l'uomo. «Senta, Giovanni, dica al direttore che avrai bisogno di parlare subito con lui!» «Ma certo, Cavaliere!» e l'uomo uscì. Lui restò solo nel lusso da tuglieri del piccolo ambiente. sembrava il baudouard segreto di Maria Antonietta. Poi entrò una ragazza dai capelli bruni, molto bruni, vistosamente vestita da cameriera, con mini davantino allacciato però alle reni con un'enorme cintura. Il pettolino l'arrivava da una spalla all'altra ed era ricamatissimo. La Cristina, fatta ad ali di farfalla, ondeggiava simosa, bianchissima sui suoi capelli bruni. «Cavaliere, un digionese?» «Sì, Rossella!» e in quel momento entrò il direttore della bisca. Si chiamava Paoletto Marcoli. Doveva avere qualche goccia di sangue nero nelle vene, sia per il colorito, sia per le narici dilatate. Era incensurato, come poi scoprì la polizia, benché tutti sapessero che viveva del gioco. Aveva maniere gentili, sapeva trattare con abilità anche i clienti non solo più facoltosi, ma perfino più sofisticati. «E' ancora un po' presto», disse il cavaliere, «ma vedrà che fra un paio di digionesi comincerà ad arrivare qualcuno». «Non sono venuto qui per giocare questa sera, né per l'aperitivo, ma solo per parlare a quattro occhi con lei», disse il cavaliere alzandosi con il bicchiere in mano. «Mi porti subito nel suo ufficio». Il tono del vecchio era inquietante, ma ci voleva ben altro per intimorire il biscazziere che rispose con un ossequioso sorriso. «Ma certo, cavaliere!» «Lo condusse nel suo studio», gli indicò una poltroncina. «Prego, cavaliere!» «Avevo detto a quattro occhi», disse il cavaliere Giovannetto pissando un killer che fumava seduto in un angolo vicino a una grossa cassaforte. «Cavaliere, quella è la mia guardia del corpo e ha l'ordine di non lasciarmi mai. «Sa, il nostro mestiere è pericoloso!» Il cavaliere si è detto. «Bene, non importa. Vorrei spiegarle la mia situazione. Avevo usato sempre questa frase con tutti coloro ai quali quel giorno aveva chiesto i soldi. È più di un anno che gioco da lei. Ho fatto il conto e le posso dire che ho perso da lei oltre 200 milioni, esattamente 212 milioni. «Può essere», disse il biscazziere, freddo. «Come lei ha già compreso, io sono venuto qui a chiederle un prestito. È un cliente che l'ha reso oltre 200 milioni in poco più di un anno. Si può vendare un fido? Mi occorrono subito 80 milioni per le paghe degli operai che devo fare domani». Il cavaliere Giovannetto era soddisfatto di sé. Il killer alle sue spalle alzò gli occhi interrogativo verso il capo. Questi con lo sguardo disse di no. Poi disse «Cavaliere, a parte che 80 milioni sono tanti e a parte subito, se io facessi prestiti simili questo sarebbe un istituto di beneficenza e non una visca». Il cavaliere Giovannetto capì che era un ragionamento giusto ma a lui occorrevano quei soldi non i ragionamenti. E li restituisco entro due mesi milione su milione. Sono un galantuomo. «Non lo metto in dubbio ma io non faccio prestiti». Il biscazziare si alzò. Il colloquio era finito. Il cavaliere invece restò seduto. «È un no assoluto?» domandò. «Assoluto?» «Allora ascolti. Se lei non mi dà questi 80 milioni io esco da qui e telefono alla polizia rivelando l'esistenza della sua bisca». «Silenzio». Il killer fece l'atto di levare la rivoltella da sotto la giacca ma il capo con lo sguardo disse ancora di no. «Di fronte a questa minaccia» continuò inflessibile il cavaliere «lei ha solo tre vie di uscita». «La prima lasciarmi uscire vivo da qui ma voi intanto scappate». «Questa sarebbe una grossa perdita per lei più che regalarmi gli 80 milioni». «Ecco la seconda. Lei mi ammazza e mi sotterra nel giardino». «Benissimo ma per lei sarebbe un errore». «Mia moglie mi cercherebbe la polizia interrogherebbe tutti i giocatori». «È questione di tempo ma lei sarebbe scoperto». «Vent'anni di galera e la bisca che salta». «La terza via di uscita mi sembra la più conveniente per tutti e due». «Le mi dà i soldi che le restituisco entro due mesi e io non la denuncio». Doveva fare qualche cosa per non morire di vergogna verso i suoi operai e verso la sua moglie. Di se stesso provava qualcosa di peggio che vergogna. Il biscaziere Paoletto Marcori guardò il vecchio con serietà ma dentro di sé sorrideva. Nella sua ingenuità il piano di quel vecchio biscaziere aveva una certa logica e aveva capito che quel vecchiardo faceva sul serio. «No, c'è un'altra via di uscita» gli si avvicinò sorridente quasi ossequioso. L'improvviso lo tenne fermo per la nuca con la sinistra. Con la destra estrasse la rivoltella gli applicò la canna alla tempia e sparò. «Portami i guanti» disse al suo killer. Si mise i guanti. Con essi puli accuratamente di ogni impronta digitale la rivoltella che poi chiuse con l'esatto studio nella mano del morto. «Adesso tu vai a prendere la Mercedes di questo fesso la porti in giardino e vi carichi il cavaliere» disse al killer. «Lo porti in qualche posto adatto e lo metti al volante con la rivoltella in mano». «Mettiti i guanti tutti a Torino sanno che era un giocatore e che stava per fallire logico che si sia ucciso». Il killer guardò ammirato al suo capo. «Un genio!» «Subito» disse «Susì!» «Signor commissario!» «Sono il portiere del Grand Hotel» disse il grosso imponente uomo. «Avanti!» disse il vice commissario. Sbadigliò. Era sul trono di comando dalla sera prima perché il commissario aveva l'influenza. Lui non dormiva da oltre 30 ore. «Signor commissario!» «Questa sera il cavaliere Giovannetto è venuto da me». «Lai conosce il cavaliere Giovannetto?» Il vice commissario a noi. «Se il cavaliere non avesse avuto quell'ossessione del gioco sarebbe stato un bravo cittadino». «Sa, è un buon cliente» disse il portiere. Il vice commissario sapeva anche questo. Al cavaliere Giovannetto piacevano le donne e se le portava al Grand Hotel. Era un altro grosso neo. Ma sul lavoro era uno dei migliori. La sua piccola industria era un gioiello di razionalità e modernità oltre che un modello nel trattamento con gli operai. E con le donne di preferenza giovani andava al Grand Hotel. Sfido che era un bravo cliente. «Questa sera il cavaliere Giovannetto verso le nove è venuto da me» continua il portiere e mi ha detto «Senti Bracobaldo perché sa mi hanno soprannominato così. Tieni questa lettera» e mi ha dato una lettera. «O io prima del luna torno qui da te e tu me la ridai? O se non ritorno per luna tu corri subito a portare questa lettera al commissariato vicino. Guarda che è importante se io non torno per luna devi andare dal commissario e dargli questa lettera». «Io ho aspettato fino a luna ma lui non è venuto e allora sono corso qui». «Dov'è la lettera?» disse l'assenato vicecommissario. «Eccola». Il vicecommissario lesse la singolare ma chiara intestazione sulla busta alla polizia con la P maiuscola. «Signor commissario questa sera verso le nove e mezzo io sarò in una casa da gioco clandestina per parlare con il biscaziere che la detiene. Può darsi che io venga ucciso. In questo caso le do tutti i dati. La casa da gioco si trova seguivano tutti i dati necessari via numero segni di riconoscimento della villetta. Probabilmente il mio cadavere sarà sepolto nel giardino o l'avranno portato altrove. Ma venite subito a parte le mie persone farete un buon raccolto di farabutti». Il vicecommissario si svegliò di colpo sollevò il ricevitore del telefono. «La squadra è completo con due furgoni!» urlò. Quella notte a luna e mezzo la villetta visca fu invasa da uno sciame di poliziotti. La decina di delinquenti e di donnazze che vi lavoravano e una ventina di sciagurati giocatori furono tutti caricati su un furgone che li portò in questura. Alle due e tre quarti il funzionario della squadra antigioco d'azzardo cominciò a interrogare il capo della visca il killer Paoletto Marcoli insieme insieme con altri tre funzionari di polizia. «Dov'è il cavaliere Giovanetto?» «Non lo so». «Senti, è venuto da te stasera verso le nove e mezzo e tu l'hai ucciso». «L'ultima volta che l'ho visto è stato ieri sera». «No!» urlò il funzionario. «È venuto da te questa sera e l'hai ammazzato!» Lo scrollarono un poco. Il duro Paoletto Marcoli ammise di essere un biscaziere di tenere da oltre un anno una casa da gioco clandestina ma lui quella sera non aveva visto il cavaliere Giovannetto e nonostante gli schiaffi gli scrolloni e qualche sputo in fazza illegali sostenne questa tesi e l'ebbe vinta lui fino alle cinque del mattino ora in cui il telefono squillò. «Pronto?» disse il funzionario. Dall'altro capo una voce disse «Abbiamo trovato il cavaliere Giovannetto è nella sua auto vicino a Stupinesi si è sparato!» Il funzionario mostrò alla signora Giovannetto la fotografia di suo marito al volante della Mercedes morto un buco alla tempia la rivoltella nella mano destra «È suo marito?» «Sì» disse intense lacrime le scorrevano sul viso lacerato dal dolore lei aveva sempre adorato suo marito nonostante il gioco nonostante i tradimenti ma non si è ammazzato «Come fa a saperlo?» disse con accorta durezza il funzionario perché era un uomo di ferro cominciò a singhiozzare aveva delle debolezze come tutti ma non si sarebbe mai arreso «Signora queste sono romanticherie» suo marito era fallito e si è ucciso e per vendicarsi potrebbe aver denunciato il biscaziere accusandolo anche della sua morte «No dottore mio marito non sarebbe mai stato capace di questo e non è soltanto romanticheria» lei disse tra i singhiozzi «Guardi la foto il colpo alla tempia è a destra» mio marito era mancino con la destra non sapeva tenere neppure la sigaretta non avrebbe mai potuto spararsi con una rivoltella nella mano destra» il funzionario scappò in piedi «Po' provarlo?» tutta Torino può provarlo lo sapevano anche i camerieri dei ristoranti che gli mettevano le posate a sinistra «Solo l'assassino al momento di ucciderlo si era dimenticato di questo particolare» pensò il funzionario nella sua cella di isolamento Paulito Marcori il biscaziere killer con qualche goccia di sangue nero ogni tanto scuoteva il capo disperato «Meglio sarebbe stato che avesse prestato a quel vecchio gli 80 milioni che chiedeva» «Molto molto meglio mille volte meglio anche se gli avesse regalati sarebbe stato un guadagno invece l'aveva ammazzato così aveva perso una casa da gioco che rendeva decine di milioni al mese e una quindicina di anni di galera non glieli levava nessuno era stato più forte il cavaliere Giovannetto «Molto di l'arrivo» «Molto l'arrivo» «Molto l'arrivo» «Molto Grazie a tutti.